In questo video vediamo come rimettere la giusta ora al vostro computer Infatti può capitare quando acquistate il computer, quando cambia l'ora, oppure anche per il fuso orario che l'orario non si sincronizzi in automatico con quello di internet Vediamo come fare per risincronizzare l'orologio Quindi per farlo dobbiamo andare sul pannello di controllo Poi andiamo su orologio, era geografica, andiamo su data e ora e poi andiamo qui su ora internet Facciamo cambio impostazioni e poi facciamo aggiorna Ora vedete se l'ora qui è quella giusta, attuale Bene, altrimenti provate anche a mettere time in its.gov Fate aggiorna E poi fate ok Ok E ora vedrete che l'orario si dovrebbe essere risincronizzato con l'orario giusto Quello preso da internet, l'orario attuale Quindi niente, per questo video è tutto, alla prossima